Oh yeah, oh yeah, siamo tutti schierati, Tommaso Labate benvenuto, Fiamma Sanò anche benvenuti, siete diciamo un po' i capitani della nostra area giornalisti che stasera ha un gran lavoro, ha un super lavoro, perché è successo, va bene che Amadeus ha detto questo è un festival l'imprevedibile, il festival dell'imprevedibilità, però insomma mi pare che l'abbiano preso alla lettera, no? Nel successo di ogni, l'ultima l'abbiamo vista poco fa in diretta, Bugo che ha abbandonato il palco dell'Ariston e quindi Bugo e Morgan sono squalificati, sappiamo cos'è successo, abbiamo visto cos'è successo, cioè Morgan ha cambiato in corsa le parole del testo, insultando di fatto il suo collega. Era rivolto a lui? Alvar, aspetta, chiedo alla regia se abbiamo, eccolo qua, le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io, e poi proseguiva la canzone. Spero non si riferisca mai, ragazzi. No, non credo. Spero non si riferisca mai, buonasera. Buonasera, mischietta. Buonasera. Buonasera. No, perché... Sì. Spero proprio che questo messaggio non si riferisca mai, comunque dopo mi scriverò come... Io ho avuto, adesso, a parte di scherzo, non so se abbiamo proprio il pezzettino audio-video, se lo possiamo rivedere. Pier Giorgio in regia, se me lo dai, andiamo e lo riproponiamo per cortesia. Così almeno... Ho ancora il pass. Ecco. Morgan! Vediamolo, vediamolo, vediamolo a tutta, a tutta. Guarda, Morgan scende da solo. Bugo non scende le scale, già. Arriva dopo. Il titolo del brano è Sincero. Morgan ha dei fogli iscritti? Sì. Le brutte intenzioni e la maleducazione La tua brutta figura di ieri sera La tua ingratitudine e la tua arroganza Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa Certo di corrida è una forma d'arte Ma tu sei solo con di dare invidia Ringrazia il cielo sei su questo palco Come vedete, Bugo sta andando via adesso Ed è già andato via Premeditazione come di una cosa preparata Perché comunque Morgan che stona non è comune Quindi ha cambiato completamente il testo In realtà c'è un doppio problema L'Eva, insomma, questo ci sta Ah, io ho notato che le coriste anche dicevano le stesse cose No, le coriste dicevano un'altra cosa Buonasera, ben arrivato Valerio Lundini Buonasera Bug exit Ciao Valerio Bug exit Sanremo 2020, Davide Piacenza Guarda che è pazzesco Ci eravamo appena abituati ai fischi di Lauro in sala Uscito fuori come la Marchesa Casati E pa, subito dopo un'altra cosa Meno male che stasera siamo tantissimi E possiamo proprio... No, no, no Ne discuteremo lungamente No, no, no